Guarda, andiamo e facciamo ancora. Oh, vieni, vieni, vieni. Andiamo, andiamo. Ehi, ciao. Ciao, buongiorno. Mamma mia. Ciao, salve. Ci troviamo qui alla Grussos Village, come sempre, più o meno a una ventina di metri dal Buranimazione. Di poco fa, esatto. Quindi ci troviamo oggi in compagnia di una, una che sta qua. No, mi chiamo Francesca. Ah, che si chiama Francesca. Di cosa si occupa lei? Di non fare niente. Di non fare niente. Questo già è una cosa indicativa, diciamo, che ci fa capire che siano consapevoli. Guarda, io non sto facendo niente. Perfetto. Abbiamo una domanda da porci, da porle. Volevamo chiederle, a proposito di questo ruolo che hanno gli animatori, nel momento in cui devono accompagnare i clienti, gli ospiti, in escursione. Come ci si comporta, così, in quattro parole? Come ci si comporta. Quattro parole. Escursione. In escursione, si ci parla, si fanno divertire, niente. Poi si ritorna. Se è tutto va bene. Se è tutto va bene. Se no, non si fa bene. L'autista sa guidare. Se non sa guidare, poi non si può dire. E che risposta è? E che risposta è? E che risposta è? Grazie.